La quarta edizione della giornata regionale sull'apprendimento digitale si terrà sabato 12 ottobre a Officina Giovani. Un giorno dedicato esclusivamente allo sviluppo e all'utilizzo delle tecnologie digitali a favore di una didattica inclusiva. Già dal primo anno fu un successo perché vennero oltre mille persone in una giornata e quindi in un solo giorno a visitare la parte espositiva, a partecipare ai corsi di formazione e a vivere le varie esperienze che si possono vivere in questa giornata. Gli anni successivi, nelle due edizioni successive, abbiamo sempre superato le 2000 presenze e quindi ci aspettiamo anche quest'anno di accogliere la comunità pratese e non solo a comprendere come la tecnologia può essere fondamentale anche per migliorare la creatività e l'apprendimento dei nostri ragazzi. L'iniziativa vuole essere una vera e propria festa della scuola e della famiglia, dedicata a insegnanti, genitori, bambini e ragazzi. L'intenzione anche quest'anno è di riproporre questa giornata importante e con tanti personaggi protagonisti, quindi la scuola innanzitutto, la famiglia, e quindi vorrei veramente che fosse una giornata di festa aperta a tutti. Sarà anche l'occasione, per oltre 30 istituti, di mostrare a tutti i partecipanti le realizzazioni dei progetti didattici. 23 invece sono le scuole del territorio pratese che attraverso il 3D, la robotica, la realtà aumentata, hanno sperimentato la didattica digitale. Rappresenta anche un po' un momento per vedere qual è lo stato dell'arte e in qualche modo quali sono appunto le novità. Ciao!